3, 2, 1, un minuto insieme a Rosario Fiorello, mi hanno chiesto di fare l'intervista per un siciliano, quindi la facciamo un siciliano. 5 secondi. Ma l'avamo a fare in Catanese, Palermetano o Giurgentano? 10 secondi passate. Ah va, anche a un farà con sé, più fuori, siamo a Roma vicino a Piazzale Claudio con Rosario Fiorello. 15 secondi. Intanto se deve fare un minuto è preciso, perché tranquillamente, un minuto non finisce, e siamo giunti a 20 secondi. E' so che ti dicevi che ti ne va. No, non ne andiamo a dire niente, non ne andiamo a dire niente, non ne andiamo a parlare, male di qualcuno, finchiamo una lista grossa così. No, finchiamo a parlare bene di qualcuno. Dimmi una cosa, ma come ci veniste a finire caro, ma non hanno cose. Zitto che mancano ancora 100 secondi. A Picciotti, io la prima volta capisci le mie grandi, le mie grandi, no, io sogno del nord, io mi grai in Sicilia, ho fatto le mie grandi intelligenti, perché praticamente quando mi grai io ero solo, tutte salevano verso sopra, io scendevo verso sotto, capisci? Io poi arrastai lì, attenzione stava a scadere un minuto. Siamo a 40 secondi, non all'estero perché se no, non è una bannona. Aspetta, non me no, ma stai a mangiare, vi saluto, me ne hai chiedi. Scusami, ma stai a mangiare stamattina non te la facesti, eh? No, hai chiedi a fare un film. E che film è, scusami? Non posso dire. Che è esclusiva, tappesino. Mi hai sottotitoli che state mettendo? Che certo, è un normale. E poi sono come si dice la nostra parte, su capisci o capisci, su non capisci, come in chiesa il nevo. Ma sai chi sta? Suca! A Palermo, quando c'è la squadra avversaria che ringie il portiere, no, suca, più forte che la pompa più forte, cioè. Sì, ma c'è la signora. Salve signora, no perché non cresce con la pompa che viste? Siamo a menù dei chimici. Sai, sai, ho fatto la barba. Purtroppo, no, 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 purtroppo a menù dei 15 io sono come... A Sky aumenta l'oliva, aumenta l'oliva del 10%. Quindi diciamo, ufficiale allora. Aumentiamo l'oliva del 10% su sta cosa qua. Signore, signore, siciliane. Che canale siamo? One Minute TV 869. Minchia, 869, mi stanno, ma che era la mano. 896. Mangusapigli, mangusapigli. Ciao, one minute. 896. Senti, ma non va a dare prima che ne 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 ne? No, no. No, mucca no, perché ne è che ti pare che si chiude il noce io? Con Pippo Baldi può passare, ma con me, con me. Ciao, f***a, sì, sì. De panza. Ciao, ragazzi.